Si è concluso il primo weekend velico della classe ANSA organizzato a Catania dal circolo NIC in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Palermo. Per la prima volta le imbarcazioni inclusive ANSA 303 hanno navigato nel mare antistante il capoluogo Etneo. Una a due giorni dedicata alla vela paralimpica con il vela day della settima zona FIV, che ha visto la presenza di tantissimi diversamente abili della provincia e in particolare i pazienti dell'unità spinale Cannizzaro di Catania accompagnati dal direttore Maria Pia Onesta. I neovelisti coordinati dagli istruttori paralimpici dei circoli hanno avuto modo di apprendere i principi base della vela con la sicurezza e facilità che l'imbarcazione ANSA riesce a trasmettere loro. Le coloratissime imbarcazioni riservate a soggetti con disabilità si sono sfidate davanti il lungomare La Playa di Catania. Otto gli equipaggi scesi in acqua che hanno disputato tre prove con un percorso a bastone. La prima prova è stata caratterizzata da poca onda e da un vento oscillante inizialmente proveniente da Ovest che nell'ultima prova è girato a nord-est. Alla fine delle tre prove questa è la classifica nella categoria ANSA 3-0-3 singoli. Primo classificato Gianluca Capone, secondo classificato Carmelo Forastieri, terzo classificato Giuseppe Di Salvo, tutti della Lega Navale Italiana di Palermo. Per la classifica ANSA 3-0-3 doppio, al primo posto Ermanno Ferigno e Manfredi Ferigno, seguiti da Claudia Di Miceli e Barbara Gambino, terzi classificati Daniela Privitera ed Enzo D'Urso, della Vela Club Cefalù. Entrambi gli eventi, voluti fortemente dalla settima zona FIV, hanno visto la presenza dei vertici della Federvela regionale, ovvero il presidente Francesco Zappulla e il vicepresidente Giuseppe Tisci, che si sono complimentati per l'ottimo lavoro svolto in sinergia dei circoli presenti al weekend velico. L'evento ha messo le basi della vela paralimpica catanese, visto il grande entusiasmo mostrato dalla Federvela regionale e dal circolo NIC nell'intraprendere l'attività paralimpica a bordo delle imbarcazioni ANSA 3-0-3, garantendo così una vela per tutti. Oggi è una data molto importante per la vela paralimpica italiana e per la classe ANSA Italia, in quanto per la prima volta le nostre imbarcazioni ANSA 3-0-3 scenderanno nel mare del capologo Etneo. Ringrazio il circolo NIC per ospitare questo evento. Oggi sarà il primo veladei paralimpico ed è molto importante anche perché parecchi diversamente abili di questa splendida città potranno provare le nostre imbarcazioni e soprattutto l'emozione di uscire a vela. Sì, è un progetto che va avanti da tanti anni e abbiamo fatto passi da gigante in tutta la Sicilia perché poi ci sono tante sezioni delle cannavali e tanti club affiliati alla Federazione Italiana Vela che hanno acquistato queste imbarcazioni ANSA 3-0-3 che sono delle barche particolarmente idonee per l'attività paralimpica e aperte a tutti. È un'imbarcazione open, tutti possono fare vela insieme, in un mondo perfetto di integrazione. È stata veramente una bellissima iniziativa, molto particolare perché il mondo della disabilità, soprattutto in unità spinale, da quando è nata l'unità spinale, è sempre vicina allo sport. Quello della vela chiaramente è un'esperienza unica, innanzitutto perché sembra per il mondo della disabilità, per la persona in carrozzina, inarrivabile poter accedere al mare, poter accedere con una barca a vela al mare. La scuola di vela ha un ramo dedicato all'attività per persone diversamente abili. Noi da tempo ci occupiamo di questo, ci siamo sempre occupati con le barche d'altura. Oggi siamo qui per presentare questa barca che è una barca, una deriva, una barca piccola e va condotta in singolo e in doppio. Questa è ANSA 3-0-3, tra l'altro una classe olimpica, anzi noi speriamo della riammissione alle Olimpia, delle Paralimpie del 2024. L'obiettivo della federazione è quello addirittura di portare la vela fra le discipline alle prossime Paralimpiadi. Questo è un obiettivo che riunisce la federazione a livello nazionale.